C'è l'inadempienza sull'approvazione del bilancio ed è una situazione molto grave in quanto la Saga rischia in questo modo la liquidazione. E l'inadempienza è tutta della giunta regionale e della regione rappresentata da Marsilio e dall'assessore Febo. Mi chiedo infatti se sia questa la politica del turismo che vogliono mettere in campo, ovvero facendo rischiare alla Saga di mettere in liquidazione la società, uno degli asset più importanti della nostra regione.